Ciao, benvenuti! Ricordate l'ultima volta quando abbiamo fatto un profondo nel potenziale di Strada EP? Beh, era solo la tipa dell'iceberg. Avete saputo che il Strada EP può fare molto più che solo espresso e scegliere? Ovviamente il Strada EP è l'ultima macchina in termini di performance e l'unica che permette al barista di aggiungere la pressione a ogni fase di distraczione. Ma se vuoi, questa macchina meravigliosa può anche agire come un dispensatore di acqua per i vostri metodi di acqua alternativi. Prima rimuovere il trattato. Poi, aggiungere la temperatura di acqua come preferite per le varie preparazioni. La macchina può aiutare tutto da 83 a 103 C con una precisione di 0,1 C. E ricordate, il Strada EP è equipato con un boller individuale per avere temperatura di acqua diversa per ogni gruppo. Per acqua di acqua di acqua di acqua puoi usare la macchina in modo manuale mantenendo la pressione più bassa possibile o puoi programmare la macchina con l'editor per dare una quantità di acqua a bassa pressione. In addition, puoi anche acqua di acqua di acqua per usare più bassi, più bassi e più bassi e più bassi. Che risulta in un drink che ha praticamente la stessa estraczione e potenza di acqua di acqua di acqua. Inoltre, le nuove Stradas sono equipate con le nuove performance touch steam wands. Grazie alla insulazione la wands sempre resta calda al touch e sempre proviene una fuori di acqua di acqua e di acqua. Stay tuned! There's more to come!